Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone ci sono code tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Code in uscita alla Strassigna e in uscita a San Mignato, entrambe provenendo da Firenze, e code tra Empoli Ovest e San Mignato in direzione Livorno. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Sempre in FIPILI, svincolo chiuso per lavori a Santa Croce sull'Arno, in entrambe le direzioni. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Muoversi in Toscana Info Muoversi in Toscana Info Muoversi in Toscana Info Muoversi in Toscana Info